Buongiorno a tutte e a tutti, siamo i Cantieri Meticci, questa è la nostra seconda puntata con voi, in questa puntata ascolterete dei racconti che i nostri attori, le nostre attrici hanno scritto o improvvisato a partire del caffè, a partire da storie di caffè, nella prima nostra puntata, nel nostro incontro abbiamo letto un brano di un grande poeta palestinese sul caffè e in qualche modo ispirandoci ad esso ci siamo ricordati un po' di nostri episodi legati al caffè, vi invitiamo a mandarci i vostri, a scrivere qualche episodio, ricordo legato al caffè e a mandarceli ai Cantieri Meticci, via Gorti 6 40 128 Bologna. Chi avesse voglia può anche fare un disegno, un piccolo collage con materiali poveri, anche per questo do la parola a Luana che assieme alle nostre artiste stanno creando delle immagini legate sempre al caffè che speriamo insieme alle vostre divengano parte di un libro comune. Grazie mille e buon divertimento col caffè. Ciao a tutti, buongiorno, io sono Luana, sono qua e ho fatto questo disegno partendo appunto da un giornale e da appunto il caffè e ho appunto immaginato di rendere un momento del caffè, un momento piacevole, un rituale in questa maniera rappresentativa, cioè aprendo una pagina di giornale e facendo dei disegni del rituale, della tradizione del caffè, di come si crea un caffè. Ho sporcato con appunto, ho dipinto con il caffè stesso che è qua e appunto invito tutti a provarci e a disegnare. Patello del caffè, ho sporcato con appunto, ho sapato, ho sapato, ho sapato, ho sapato, i a tutti i nostri amici e sono un amico per la città e sono un amico per la città la città la città sono tutti i nostri amici e sono un amico per le mie e sono un amico per la città e ho dire e mi chagol e mi anche mi anche voglio la cotta e mi chagol e mi chagol e mi chagol quando ti perdono quando ti perdono e mi chagol e mi chagol ed eravo e mi chagol Narsi per aver le farlo e Solo dovevo mountains ma stai sempre cercando di fare il cuore stai sempre cercando di fare il cuore il mio canale ricordo di回ruzione prima di riusci لم تبقى إلا الشقيقة الصغيرة كانت أمي تقول لها اذهبي اذهبي اصنعي فنجال قهوة لأخيك وتذهب شقيقة الصغرى وتعود بفنجال القهوة كنت أشرب فنجال القهوة وأتحدث مع أمي وفجأة أثناء الحديث أنعص وتقول لي أمي أنت نمت أقول له لا 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 أنا مستيقظ أنا صاحي وتقول أمي لأختي ماذا فعلتي ماذا وضعت لأخيك في القهوة وضعت له منعوم كي ينام ونضحك جميعا والآن ماتت أمي 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 cercatezza dei particolari degna di un giorno speciale. L'abbinamento dei tovaglioli alle tazze, per esempio, e poi i fiori freschi che non mancano mai, anche a gennaio e con una temperatura sotto zero. Qui i fiori si vendono dappertutto perché tutti li comprano, specie alla domenica, tulipani soprattutto. Oggi è davvero freddo, c'è uno strato di ghiaccio sulle strade e devo stare attento a non scivolare quando cammino. Sono vestita a strati come una cipolla, ma le guance e il naso che sono scoperti pizzicano per il vento genido. Anche io ho comprato i tulipani per Ilse, gialli. Mi sembrava il colore più adatto, pensando a lei. Dream! Hallo Ilse! Hallo Sara! Ilse mi accoglie nel suo spazioso e luminoso salotto. Grandi vetrate senza tende lasciano entrare la luce del giorno. Se fuori è molto freddo, dentro nelle case tedesche. È molto caldo e sotto al giaccone pesante loro, i berlinesi, sono vestiti molto leggeri, come fosse quasi estate. Io no, non ci riesco. A gennaio, in maniche corte, non ci sto. Neanche per Ilse. Sul tavolo c'è la brocca di caffè caldo. Il suo aroma mi avvolge. E poi ci sono tre giovani donne sedute che chiacchierano e mi guardano accennando un sorriso. Com? Mi dice Ilse, che mi guida alla tavola imbandita e fa le presentazioni. I miei fiori vengono subito sistemati nel vaso di vetro colorindaco, in tinta con i tovaglioli, insieme ad altri tulipani bianchi. Mi accomodo e mi rilasso. Caffè? Mi chiede la giovane bionda con gli occhi di ghiaccio. Yada anche. Sì, ho proprio bisogno di un caffè caldo. Quello che vi chiedo è, proprio a chi ha un'associazione, un ricordo, di fare una piccola improvvisazione. Cioè, è come se Josiane dicesse acqua sporca. Il caffè, anche il caffè belga è acqua sporca. Ne mandi giù dei litri, però è poco più che qualcosa di colorato. Cioè, la forma di reazione, di risposta, è un atto, è una microimprovvisazione. Pensavo al profumo del caffè. Io però, il profumo non è che proprio, proprio lo sentissi. Mi dava proprio fastidio. Mi dava talmente fastidio che per me era pezza. Mi rovinava la colazione, tutte le mattine. E non capivo perché sia mia mamma che mio papà lo cercassero proprio come se fosse qualcosa di irrinunciabile, indispensabile. Puzzava. Non capivo perché dovessero bere qualcosa che avessero un odore così forte. Sembrava bruciato, sembrava di bere veramente legna bruciata. E mi rovinava i miei biscotti, rovinava tutto. E soprattutto non sopportavo il momento in cui, prima di andare a scuola, mia mamma mi dava il suo bacio all'odore di caffè, o meglio, alla pizza di caffè. Mi ricordo quando ero piccola che mettevo la legna nella stufa e sopra c'era una pentola di alluminio con dentro il caffè. Allora sentivo un profumo di caffè. Tutte le sere andavo a mettere dentro la legna nella stufa anche se non c'era bisogno. Il profumo di caffè mi inebriava ed ero piccola. Una sera ho preso un panchetto, salì sopra, rischiavo anche di bruciarmi. Con il mescolo lungo, lungo, riuscì a sentire e godermi di nascosto a bere il caffè. Adesso bevo tutti i giorni il caffè e mi ricorda l'odore del caffè caldo dato che io avevo freddo e col caffè mi scaldavo. Il caffè mi dà una vitalità, il caffè mi dà la pace, il caffè è un esaltatore di vita e tutte le volte alla mattina quando mi alzo bevo sempre il caffè che sono diventata come una coca, io non vine a bere il caffè. Io i primi giorni per me a Bologna mi manca il caffè arabo come ha parlato adesso nostra amica. Il caffè arabo è diverso, non è come il caffè italiano espresso così. Allora io cercando questo dove costa il caffè arabo per fare il nostro caffè così, con questa. Non è come devi fare questa, così, devi mettere l'acqua e dopo il caffè è zucchero o senza zucchero come ti vuoi. È diverso, non ho trovato mai. se qualche anno io cercando questa cosa, alla fine, forse l'anno scorso ho trovato questo, il mercato usato. Ma dopo, qua io cercando 80 anni, prima ero ubriaco caffè arabo e dopo è diventato ubriaco caffè il caffè italiano. Il caffè di mia madre. Durante la guerra i miei genitori, molto previdenti di natura, avevano gelosamente custodito un sacco di 50 kg di caffè verde, comprato al mercato nero e la vecchia macchina per la torrefazione. Chissà, poteva tornare utile. Quando si parla di caffè, mi tornano in mente tanti ricordi della mia infanzia. Rivedo mia madre seduta all'angolo della vecchia stufa legna e cucina, che gira e rigira sulla fiamma la macchina per la torrefazione, scuotandola di tanto in tanto, controllando il grado di tostatura dei chicchi di caffè. Chiudo gli occhi e torna a stuzzicare le mie narici quell'aroma speziato che pervadeva l'intera casa. Rivedendo mia madre seduta lì, intenta a girare energicamente la maniglia del macchina caffè di legno chiaro e metallo rosso tra le ginocchia. torno a sentire il rumore dei chicchi che si rompono e diventano polvere. Rivedo mia madre aprire il microscopico cassetto del maccinino e versarne il contenuto nel filtro della vecchia caffetteria di di smalto bianco ornato di fiorellini, aggiungendo qualche granello di cicoria per ridurre il livello di caffeina. Rivedo mia madre versare lentamente nel filtro l'acqua bolente del vecchio bolitore di alluminio a fischietto messo poco prima sul fuoco e sento gli intensi e fluvi di quella bevanda riempire poco a poco lo spazio. Che fosse per il postino o per chiunque entrasse in casa nostra c'era sempre del caffè pronto. La preparazione del caffè oggi non ha più nulla a che vedere con la lenta accurata e amorevole preparazione di allora ma per me rimane un momento magico perché strettamente legato a mia madre. Io e mia sorella da piccoli avevamo in casa questo maccinino di ferro azzurro rotondo e per noi era l'occasione per metterci a giocare al tram. Io facevo il conduttore del tram, prendevo il maccinino e mettevo su un tavolo, mia sorella si sedeva dietro su una sedia e il maccinino con la sua manovella era il meccanismo con il quale il ferroviere faceva andare avanti, fermare il tram. Buona giornata amore, buona giornata, ecco il tuo caffè per far terzare ed iniziare bene questo giorno. Sono contento di questo incarico che mi sono assunto la mattina, fare il caffè e portargli al letto come primo gesto d'amore. Fare il caffè è il mio momento di meditazione, silenzioso della giornata. Mi sveglio sempre prima io, in verità mi sveglia il mio cagnone che pretende di mangiare per iniziare bene anche lui la sua giornata. Deambulo fino al bagno e poi in cucina, lo accontento con la sua porzione di crocchette e lui per cambiare mi manifesta la sua gioia con salti e girotondi. Poi preparo il caffè. Il silenzio di cui mi circondo nella preparazione mi permette di mettermi in contatto con me stesso. Sta per iniziare un'altra giornata. Faccio il mio solito buon proposito di volermi bene, di ascoltarmi di più, di non aver bisogno dell'approvazione degli altri. Piano piano, giorno dopo giorno, sento che questa meditazione silenziosa, davanti alla mocca, sta facendo i suoi effetti. Piano piano, sento che ogni giorno che passa sono un po' più diverso. Il passato rimane con i suoi sbagli, non ho intenzione di cancellarlo, ma quello che sento che conta di più è il giorno che ho davanti e come lo vivrò in rapporto con gli altri. L'odore del caffè pervade tutta la cucina e si espande verso le altre stanze della casa. Sento un mugolio dalla camera da letto e una vocina che dice «Wow, stai facendo il caffè, che bello, grazie». Come al solito, anche lei è abituata a non dare niente per scontato, neanche i piccoli gesti che si ripetono ritmicamente ogni mattina. Tutto è e diventa gioia. Io continuo a rimanere in silenzio e aspetto che il rito del caffè che sgorga dalla macchinetta si completi. Mescolo il denso liquido nero, aumentando l'odore nell'ambiente. Selgo con cura due tazzine e un vassoio. Preferisco portare sul vassoio sia la tazzina che la caffettiera, in modo che il caffè venga servito bello caldo. Noi lo beviamo tutti e due senza zucchero. Per noi solo così si sente veramente se un caffè è buono oppure no. Completato il bouquet, mi incammino con calma verso la stanza da letto, con il canione che mi cammina tra i piedi. Lui sa, come mia abitudine, che sul vassoio ho appoggiato anche due dei suoi biscotti. Nessuna parola, solo gli occhi parlano tra di noi. La cosa più dolce di questo inizio di mattina è avere qualcuno che ti sorride appena sveglio. Viene da lontano questa abitudine del caffè alla mattina. Viene dai momenti in cui facevo bivacchi in montagna con gli amici. E per me era importante preparare il caffè per tutti e poterlo offrire con il cuore aperto. Viene dalle navigazioni in mare per far ateli da chubacco in Grecia o in Croazia. Ma in fondo quello che per me conta è che il caffè fatto con amore ed offerto con gioia permette di affrontare la vita in modo più aperto e senza rancori. È un altro giorno, si vedrà. Buona giornata, amore. Buona giornata a tutti. La scorsa estate sono tornata di nuovo a Napoli, alloggiata al quarto piano di un palazzo dei quartieri spagnoli dove mi affaccio con piacere al balcone della camera. La strada sotto è stretta, a senso unico, la stricata con pietra lavica nera. A destra, in fondo, si vede il mare. A sinistra, in alto, sulla collina, la certosa di San Martino. Proprio alla base del palazzo, di là dalla strada, in una piccola edicola carica di ex voto, qualche passante ha lasciato un fiore all'immagine della Madonnina che si trova all'interno. La strada è così stretta che posso cambiare qualche parola con il bambino del terrazzino di fronte. Sul balcone, due seggioline, un piccolo tavolino. Mi sto godendo l'aria fresca del mattino e i pochi rumori che vengono dalla strada. Ho portato con me sul balcone la cucumella, la caffettiera napoletana carica di acqua bollente. Ora la capovolgo, mi siedo, aspetto. L'acqua scende piano, goccia a goccia. Cola sul caffè appena macinato a grana grossa e lentamente va a riempire il bricco con il becco, sul quale ho appoggiato un piccolo cappuccio in carta per non disperdere il profumo. Passa qualche minuto prima che l'acqua sia colata tutta, ma anche questo fa parte del rito della tazzulelle caffè. Il bricco ora è pieno di caffè fumante, appena calato, denso, profumato, quasi una cioccolata, di colore ammanto di monaco e mi sento molto vicina ad Edoardo De Filippo nel suo monologo sul caffè che si conclude con «Vedete quanto poco ci vuole per far felice un uomo?» Una tazzina presa tranquillamente qui fuori con un simpatico dirimpettaio. Ho saputo che mi ha già sonnato stanotte. A nonna Carmela. Eh, com'era bella. Con quella camicetta rossa come quando gli va a fare spesa a basso mercato. La prima cosa che mi ha hit non mi ne è. Non mi sento a bola, ma sto facendo vecchia puria. e non c'è pensata, no, ha sentata. E si è sentata in fronte a me. Ma ha pigliata mano e mi ha detto «Nonna, no, ma tu o vuoi trovare un buon marito? Un marito che ti va bene, che ti rispetta?» Ma no, veramente, io non ne ho capito tanto a matrimonio. Come? Una buona moglie ad essere una femmina e sa da far rispettare. E io sai qual è la prima cosa che una buona moglie sa da andare a fare? Eh, no, no, veramente, non ci penso a matrimonio. Ha da sapere fare un caffè. E allora? Puglia il caffettino, lieve le pezze sotto, metta in dell'acqua ad essere fredda, gelata, poi piglia il filtro di quella che buca. L'acqua non ha da stare né troppo sottofiltro né troppo copofiltro in una via in mezzo. Puglia il caffè e comincia a fare una montagna, grossa, 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 commuovi subito e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otte. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otte. Puglia il cubierchio, metto la sopra, metto un coppo a fuoco a fiamma bassa ma raccomando. E una nene, una buona moglie ha da sapere fare pure la cremina. quindi, piglio il bicchiere, mettoci in due zucchero e prima quattro gocce che escono in da caffè e poi aggira, aggira sembra finché non si andrà puoi dicere che ho caffè pronta perché l'adoro caffè non dice così. Mi hai capito nanninè? Ma io, sto marito, non lo voglio trovare. E poi mi ha già sciatato. Io mi sento ancora a mano su in da me. mi ha pulito una tazzolele e caffè. Ma forse ho forse ho mangiato male ieri sera. Forse ho mangiato male il sonno è stato un po' tormentato. Adesso adesso sento un improvviso peso sullo stomaco. Sento qualcosa che mi mi dà fastidio, mi mi pesa. Chi è che mi sta prendendo a schiaffi in faccia? Non sono schiaffi. Ma porca miseria, sono le zampate del gatto che mi sta svegliando, vuole mangiare. Vabbè, mi alzo vado a fare il caffè. Come diceva il nostro poeta palestinese, il caffè è geografia. Speriamo di avere viaggiato con voi insieme e speriamo che questi caffè da tutto il mondo ci facciano incontrare. Grazie infinite e ci vediamo la settimana prossima con una nuova storia. Buona giornata. liberi dentro i laboratori di EduRadio per il carcere e la città. di EduRadio di EduRadio che di EduRadio